A Novagli di Montichiari per il trofeo alla memoria di Giorgio e Pietro Senini erano di scena gli esordienti e nella competizione riservata ai classi 98, dei 71 iscritti si sono presentati al via 55 corridori. Il più veloce a percorrere i 49 chilometri previsti è stato Simone Giacomello dell'Unione Ciclistica Lupi, alle sue spalle Riccardo Boron con Luca Mozzato a completare il podio. Alessandro Baldassarre, portacolori del Timber Blanco Andy Cafè, si è piazzato al quarto posto nello sprint finale. Gli allievi erano invece impegnati nella 25esima Gazzaniga Onore, trofeo GBC a prettificio, quarta ed ultima prova della quarta edizione del Giro della Valseriana. Una gara caratterizzata da scatti e controscatti senza che nessun corridore riesca davvero a prendere il largo. L'azione decisiva si concretizza a meno di 4 chilometri dalla fine con il Veneto Matteo Pernigo che guadagna un centinaio di metri sul gruppo e conquista così la sua seconda vittoria stagionale. E' stato lui il più veloce dai 123 partenti a percorrere i 76 chilometri previsti dalla gara, davanti a Matteo Galimberti e Leonardo Federigo. Nonna posizione per Niccolò Brescianini del Timber Blanco Andy Cafè, un piazzamento che fa ben sperare per la gara organizzata dal team di Beppe Cretti per il 15 agosto, data in cui a Rogno andrà in scena il quarto trofeo Fratelli Agliardi. Grazie a tutti.